l'Atalanta batte la Lazio per 4 a 1 all'Olimpico e vince quello che di fatto è il primo grande scontro diretto della stagione una partita che sulla carta non doveva essere così facile non doveva essere così scontata ma l'Atalanta ha vinto con scioltezza determinazione e anche una buona dose di cinismo che sicuramente un po' la novità di questa nuova stagione ma andiamo con ordine come al solito alcuni punti sparsi scollegati e poi voi nei commenti potete aggiungere togliere fare quello che ritenete la prima cosa che dobbiamo dire la dobbiamo dire con tutta onestà anche se sotto traggia forse ce la ribadiamo da un po' di tempo che questa squadra è fortissima non è una buona squadra non è una squadra promettente non è una squadra sorpresa è una squadra dannatamente forte nell'organico nella mentalità nella condizione ed è una squadra che ha tutto il dovere e il diritto di ambire a grosse soddisfazioni poi la nostra storia il nostro modo di pensare non ci obbliga e non ci produrrà alcuna delusione se non arriveranno trofei ma la forza di questa squadra la porta necessariamente a dover guardare le altre big ma veramente big come dirette concorrenti perché altrimenti stiamo a raccontarci una storia che non è reale non serve a nessuno e credo che questo sia un passaggio l'ultimo passaggio di maturità che deve fare questa squadra che forse teme di risultare un po' presuntuosa però il campo parla i numeri parlano le prestazioni parlano e dopo un po' non ci si può neanche più nascondere rispetto a quello che stiamo facendo perché la partita di ieri la partita di ieri non è solo una vittoria è una vittoria schiacciante contro una squadra che gioca in champions league attenzione è una vittoria schiacciante con due fenomeni uno di fatto uno sulla carta Ilicic e Milanciuk non disponibili è una vittoria fatta senza nemmeno sprecarsi troppo perché l'Atalanta di fiato ne aveva ancora di energia ne aveva ancora ma a un certo punto non è neanche sensato quando stai ampiamente vincendo sprecare tutte le risorse questa vittoria questa è la vittoria di ieri e dobbiamo pesarla per quello che è una vittoria eclatante una vittoria su tutti i fronti la seconda cosa che mi preme dire l'Atalanta sta imparando il cinismo anno scorso più volte l'abbiamo detto che l'Atalanta doveva imparare questa cosa e quando lo faceva era ottimo ieri è stata una partita magistrale nel non dover dimostrare niente a nessuno nel non spendere nemmeno tutti i giocatori più importanti nell'avere una consapevolezza nel gestire anche i giocatori perché non so se l'avete notato Gomez i primi 20 minuti quando tutti gli altri stavano spingendo lui è rimasto tranquillo senza dover strafare senza necessariamente farsi vedere ma poi trovarsi preparato quando chiamato in causa questa è la capacità anche di gestire i momenti all'interno della partita che spesso e volentieri c'è mancata e c'è costata come c'è costata che sembra che quest'anno invece abbiamo imparato e imparato anche molto molto bene e lo vediamo anche nella malizia di alcuni falletti chiamiamoli così che magari una volta non facevamo ma adesso diventano tattici diventano utili per guadagnare quel momento per spezzare l'azione oppure nel restare a terra quel secondo in più nel tenere il pallone anche se l'abito ha fischiato il fallo per evitare la ripartenza tutte cose che l'Atalanta fino a poco tempo fa non faceva perché guidata da uno spirito avventuriero di uno contro uno e che adesso invece sta imparando a gestire ma queste cose qua le abbiamo imparato sulla nostra pelle sono quelle che dal quasi successo ti portano al successo perché poi il trionfo e la sconfitta spesso sono questione di pochi minuti di pochi attimi e devi saperli gestire tutti andando alle prestazioni che cosa vi devo dire hanno giocato tutti bene tutti bene possiamo spendere parole per il papo gomez ma non sembra non serve neanche perché quello che ha fatto è su tutti i giornali e su tutte le televisioni spendo una parola per zapata che magari tanti non hanno visto ma ha fatto un lavoro di di tenere sulla squadra pazzesco di movimento di apertura su un gol di gomez non mi ricordo se il primo e il secondo da pata fa un movimento che porta fuori tutti i difensori poesia le ali hanno fatto quello che oramai sono addestrate a fare ma lo fanno con una capacità anche a teber è migliorato tantissimo nella coordinazione un anno e mezzo fa quella palla lì l'avrebbe colpita piegandosi su se stessa in una posizione strana in questa volta invece arrivando perfetto pulito agganciato il pallone qua vedi la crescita e secondo me è qualcosa di importante perché vuol dire che quello che si prepara che c'è un lavoro e questo lavoro sta dando dei frutti perché le modifiche sono tangibili ve lo ricordate anche voi a teber quando per colpire le palle assumeva delle posizioni tutte contorte perché non aveva la coordinazione adesso adesso ce l'ha questo è la crescita possiamo parlare di marinoschi che a volte pasticcione a volte cade un po troppo facilmente ma quando poi prende la palla signori o si inventa degli ottimi passaggi o le scarta due quindi è un giocatore un po più esplosivo un po più meno riflessivo di altri ma non gli si può dire niente basali ci ha preso praticamente tutte le seconde palle possibili non avrà segnato non avrà fatto tiri ma tutto quello che passava nella sua nel suo tubo come lo si chiama le prendeva tutte è andato prendere un sacco di palloni la difesa ammonito gym city non rischiamo nemmeno mettendo un altro difensore la faccenda non cambia una maturità una completezza questa squadra non ce l'ha una maturità e una completezza così questa squadra non ce l'ha mai avuta noi dobbiamo esserne consci chiaramente non sarà sempre festa chiaramente i risultati si ottengono anche mantenendo la concentrazione perché gli scivoloni sono dietro all'angolo quindi questi complimenti chiusi il video ce li dimentichiamo però il campo parla il campo parla e dice che quando l'Atalanta informa oltre a essere uno spettacolo non ce n'è per nessuno io vi ringrazio tantissimo per il seguito per i commenti per tutto quello che state facendo se volete iscrivervi potete tranquillamente premere il bottone iscriviti o aspettare alla fine del video che compare al mio faccione tutti i miei riferimenti li trovate nell'info box e per restare sempre informati sull'Atalanta vi rimando al sito atalantini.com ciao